ok ragazzi si continua con rogo e galaxy vediamo un po cosa bisogna fare siamo quasi arrivati a destinazione vediamo cosa succede vediamo se c'è un incontro da fare prima non lo so sinceramente what do you want only brokakwins are allowed beyond this point go home wait our ship broke down we're looking for fire fruit not our problem now go home or get hurt another piece of friendly advice don't go near the spring past here especially not today ok ragazzi io mi volevo mi sarei voluto avvicinare ma purtroppo mi dicono che non posso vabbè torniamo dietro sarà da combattere adesso è sicuramente perché la strada è abbastanza lunga da rifare per tornare dietro ma vabbè andiamo 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 bradone su bradone bradone fatti il tipo per bradone qui perché ragazzi ci vuole ci vuole basta allora molto complesso come gioco è perché a equipaggiare fare non è come gli altri giochi di ruolo vabbè come trovare io raccolgo le sfere qui gorilla maledetto e sì ma non mi spaventate più ma voi insistete ma insisti 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 ma tanto perdete voi ok va bene così e ora bisogna andar di qua vedete che bisogna seguire la freccia la freccia sempre perché se adesso andavo di la vedete più po la strada bici porta quindi altri gorilla hanno ok cerco perfetto ma è così grande bradone grande che stile ragazzi che stile vai vai mi sono potenziato per bene sì sì non ho paura più di nessuno andiamo andiamo ora andiamo di qua ragazzi la strada è questa non c'è storia non c'è storia ok ok fungo qui va bene non sono boss che mi spaventano vai andiamo avanti pochi soldi ma meglio pochi che nulla insomma un altro scontro lo facciamo prima di arrivare a destinazione sì eh vai perfetto perfetto così sul brado andiamo andiamo alla grande in grande stile vieni qui vabbè oramai siamo troppo forti per questa zona vai livello aumentato matando in panchina ottimo così siamo arrivati ragazzi siamo arrivati credo eh e sì siamo arrivati sì no what is it Zegrim shh I heard something you're not afraid Mirri no not me Mirri Lillica am I am I gonna meet the star god that's right you've been chosen you get to be right next to the star god I know but when I'm with him does that mean I won't be able to see you anymore Mirri Mirri villagers you think look at that two brats not bad huh tell me Jaster which one's more your type what's wrong with you two anyway let's go down there and ask them where Bokakwa village is wait those two look like Bokakwa tribesmen they might attack if they know we're outsiders they don't look like the type to attack what do you know about the Bokakwa anyway listen do you have any idea what they did to me back in the days these Bokakwa creeps first day who's there oh we've been spotted wait let us explain we come in peace we're sorry we didn't mean to spy on you you're from Bokakwa village right we'd like to go there ourselves but the gatekeepers turned us away and we can't get in what do you want there our ships broken down and we need fire fruit to fix it we were hoping that maybe we could get some in the village or uh you know well uh find out where we could gather them ourselves run away run away huh huh Jaster Kisawa 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 Cosa ti racconto? Sì ho le pozioni Ho tutto ragazzi Non può matare Che bordello Che sarà fare ora questo boss Quindi scontri Non sono facili per niente Ai 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 Energy energy Almeno non mi ricarica nessuno Io compro solo Eh Tiro solo fuori il cash Guarda un po' qui sulla terra ferma Perché Se quello mi fa Eh ragazzi la mossa Lì con i fulmini Almeno sono qui Non dovrebbe colpirmi Credo Eh Con metà barra Quasi è tolta Al boss Siamo potenziati Abbastanza Però Non è uno scontro Facilissimo Questo Non è veramente Uno scontro Semplice Però Però ragazzi Vabbè io non posso Scaricarmi Perché non posso Raccogliere sfere Visto che No No Attenzione Caffò Dai grande A me non mi ricarica nessuno Eh Ah ok Sono sempre l'ultimo Eh Di me se ne occupano sempre All'ultimo Brutti Balordi Vediamo se compro ancora Le pozioni Vedremo Vedremo proprio Se ne acquisto ancora No Aiuto 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 Che bordello ragazzi Dai Ricarica Su Muoversi Muoversi A me niente Oh ragazzi Inutile Sempre all'ultimo A me E non c'è verso Non c'è verso A me se ne occupa sempre All'ultimo Che bordello ragazzi Non è facile Non lo ricordavo Così Balordo Qui le boss fight Dai che manca poco Via 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 Grande Ci siamo riusciti Vai così Vai così Isara! Uh ragazzi come si aumenta di livello eh vabbè una pozione curativa e basta Sei ok? Sì, stai spettando un po' di questo. Tu... tu stai protegendo mia sorella. Grazie. È ok, è stata una cosa spurti del momento. Sei ok? Sei stupendo? Non, sono proprio bene. Sono Lilica, e questa è Miri. Sono Kassala, buona te conoscere. Sì, stesso qui. Miri. Si è stata attaccata da un beast molto fa. Un beast? Non posso vedere, ma posso fare tutto altro. Non c'è nulla cosa che mi può perdere. Sì. Quindi non c'è bisogno di spettare lentamente sulle sulle. Tu dicevi che volevi andare a Burkakwa, certo? Oh, sì. 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 Ma non ci sono attaccato da vicino. Sì. Sì. Molto. Sì. È ora per arrivare. Sì. Sì. Sente di spettare un movimento di noi. Vediamo che Burkakwa è piena di belle donne, eh? Ok ragazzi ora bisogna tornare dietro. Eh, te pareva? Te pareva? Che scontro, ragazzi, che è stato qui? E' stato uno scontro micidiale. E' stato uno scontro micidiale. Sì, vivo in questo luogo. Puoi parlare? Wow, sei davvero scontro. E' stato un sudden, anche. Sì, deve essere perché di quella colorata colorata. Colorata colorata? Questo deve essere il lavoro di questa rune. La rune aumenta il processo dell'evoluzione e diventa le cose vivere in fatti. Hai capito. Non è vero. Ever since it fell from the sky, the jungle's been full of all kinds of weird stuff. My buddy, he got all huge and went kinda crazy. You know, the beast that you defeated earlier. But hey, you know, I don't blame you for it. It's better this way. If he'd survived... Oh, man, what a shame. Come on, let's leave this lump and be on our way. No, wait, hang on. Take me with you. Come on, guys, don't be such a stick in the mud. I really wanna come along for the ride. What did you say? Who'd wanna live out their life in this swamp? Besides, if I stay here much longer, I might end up like one of them. That ain't our problem. Now, scat. Whoa, 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 whoa! Hey! It's not like you don't stand the benefit. I can talk, right? But that's not the only thing that I can do. I also got this interesting new power. I bet it'll come in handy, my friends. Here, let me borrow these. What the... Huh? Huh? What? What did you just do? I have the power to mix together the things that I eat. Yeah, it's like I can fuse together two different items. Pretty cool, huh? Yeah, It's sure. Hehe, ragazzi. Heheh, Mica una cosa da niente questa, eh? I can combine the items you find and make cool, new items. I begginote, let me come along. What do you think? All my friends has made a monster. I'll be all by myself if I stay here. Ok ragazzi La classe è unita al gruppo Vediamo un po' eh La sindesi forge armi più potenti Bellissimo Eh eh ragazzi Ah quindi solo armi potenziate a livello massimo E beh Bellissima questa cosa di Di abbinare le armi e poi le volbe più potenti Cioè veramente È fantastico Fantastico ragazzi Non ricordavo questa cosa Se volevo dire la verità eh C'è qui Vabbè ho anche la spada più potente Voglio vedere quando durano Ciao Ciao a tutti Ottimo 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 andiamo andiamo Vai una pozione curativa Vabbè Allora ragazzi a questo punto salvo la partita Salvo la partita Si chiude qui questo gameplay Ok Spero che siete rimasti soddisfatti È perfetto così Vai Allora nuovi dati salvati Giusto? Vediamo un po' di controllo ragazzi Sai Per sicurezza Per sicurezza rifaccio un altro salvataggio Non è mai troppo Ecco Su questi giochi qui bisogna andarci con cautela Allora ragazzi Anche questo Il gameplay numero 8 Si conclude qui Ci sentiremo con i prossimi gameplay Sempre in compagnia del vostro Diablo Ciao a tutti E restate sempre rock Ciao ragazzacci